A Reggiolo per visitare il centro del riuso è una struttura comunale che è affidata a Sabar per la gestione all'interno dell'isola ecologica ma ad occuparsene direttamente nel lavoro quotidiano e Auser. Una bella collaborazione della quale parliamo con il direttore generale di Sabar Marco Boselli. Allora Boselli cerchiamo intanto di inquadrare il ruolo e il compito del centro del riuso. Sì allora diciamo che abbiamo voluto fortemente che questo centro del riuso fosse a fianco dell'isola ecologica perché questo è il secondo centro del riuso, l'altro è Novellara, non è di fianco all'isola ecologica e vediamo che il cittadino fa più fatica ad andarci. Invece strategicamente messo a fianco dell'isola ecologica quando il cittadino viene a portare rifiuti può dare una seconda vita a questi rifiuti e quindi scavallare questo cancello e portare il centro del riuso. Al centro del riuso c'è questa collaborazione col volontariato e quindi con Auser, gestiscono questo centro del riuso e il ricavato viene dato ad opere pubbliche e quindi si riporta sulla comunità. Quali sono i materiali che sono conferiti in questo spazio? Sono tantissimi materiali, abbiamo escluso un po' le apparecchiature elettriche ed elettroniche se non quelle proprio di picca la taglia però principalmente abbiamo divani, abbiamo letti, materassi, tavoli, sedie, lampadari ma anche vestiti, libri, riviste. Ovviamente diciamo che una volta che viene portato al centro del riuso sta lì mediamente massimo sei mesi, dopodiché se non interessa a nessuno questo ritorna nel campo dei rifiuti e quindi ritorna all'isola ecologica. Adesso c'è anche l'Auser di Boretto che è interessata quindi stiamo valutando con loro all'interno del magazzino comunale che è proprio di fianco all'isola ecologica per poter fare una terza esperienza. Quindi già tre esperienze su otto comuni. Ed entriamo nel cuore del centro del riuso per incontrare Mario Sala che è responsabile per Auser del centro del riuso, ovviamente volontario Auser. Mario, allora fondamentalmente qual è la vostra missione qua? La gente quando viene a portare la roba in discarica possa portare qua del materiale in modo che noi valutiamo se è ancora in buono stato diciamo e che praticamente possa essere rivenduta a persone che si trovano in difficoltà economica e che vengono anche a prendere materiale da mettere nei garage, nella casa e che possa essere riutilizzata. Noi stipuliamo diciamo così un prezzo minimo di base a certe cose perché mettiamo già a codice il materiale di cui viene venduto. cerchiamo di prendere un qualcosina. Tutto il ricavato è stato devolto per l'auda didattica delle scuole elementari Edmondo di Amici di Reggiolo del paese. Con il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli alla scuola elementare di Reggiolo davanti all'aula Amplenair che ha un contatto molto diretto con il centro del riuso che abbiamo appena visitato. Quest'anno abbiamo deciso insieme a Auser di realizzare questa aula didattica per la scuola elementare che sarà utilizzata nel periodo primaverile le bambine della scuola elementare stessa per fare attività anche diverse rispetto a quelle che fanno solitamente all'interno dello stabile. Come può progredire questa collaborazione sociale con il centro del riuso? È una collaborazione che abbiamo provato a sperimentare qua a Reggiolo, è il secondo centro del riuso aperto nella bassa reggiana, il primo è quello di Novellara, poi Reggiolo ha provato a sperimentare questa iniziativa allargando l'isola ecologica. La partecipazione è molto alta, noi non ci aspettavamo una partecipazione di questo tipo quando siamo partiti con questa iniziativa e questo è un esempio perché questa struttura che costata circa 6.000 euro è stata frutto di qualche mese di lavoro. I volontari che si sono impegnati credono in questa importante iniziativa e quindi ci mettono anche dell'amor proprio, questo è fondamentale per far funzionare sempre meglio i servizi. Quindi io ringrazio tutta l'Auser perché questa sperimentazione ci sta dando dei frutti veramente molto positivi.